Parliamo di crisi perché ci sono i dati veri, quelli dell'Istat, che confermano ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che in termini di occupazione sono le donne quelle che pagano più di tutti. A febbraio 42.000 donne hanno perso il posto di lavoro. I dati che si riferiscono invece all'occupazione maschile sono piuttosto stabili e quindi una tendenza che non è indicativa né di una decrescita che neppure di una crescita. Un tasso di occupazione femminile come quello italiano tra i più bassi d'Europa è sicuramente un freno alla crescita del paese. Non è una questione di genere ma un vero e proprio campanello d'allarme per la nostra economia ed è importante riflettere e confrontarsi su questo tema donne ed uomini. Infine a proposito di donne, a proposito di lavoro e di impegno consentitemi una parentesi personale, un saluto alla direttora del Corriere del Mezzogiorno di Puglia, Maddalena Tulanti, che in questi anni con il suo impegno, con il suo duro lavoro, ha saputo rendere culturalmente migliore la nostra regione. La redazione barese del Corriere del Mezzogiorno si prepara ad un nuovo corso indubbiamente ma mi permetto di dire che quello di Maddalena è stato indimenticabile.